La verità e il rispetto della persona vengono prima dello scoop e contro le false notizie. I giornalisti della Diocesi hanno celebrato il patrono premio a Italo Lunghi, direttore di Tele Liguria Sud. Nella solennità della conversione di San Paolo, a conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, il Pontefice ha invitato a condividere l'esperienza fondamentale, la grazia di Dio. Celebrazione ecumenica a Sestri Levante, i genitori di Gesù, esempio per le famiglie di tutto il mondo. Appello a tessere rapporti stabili, ad avere atteggiamenti virtuosi e a fidarsi di Dio. Svolta ecologica di ATP, l'azienda di trasporto pubblico della città metropolitana di Genova, punta sui mezzi a doppia alimentazione, a metano e a idrogeno, già avviata la sperimentazione. E' nata la comunità produttore di nocciola delle valli del Tigulio. La finalità è il recupero dei numerosi noccioleti presenti sul territorio e il rilancio del prodotto. Anche il Tigulio non ha dimenticato Giulio Regeni. A due anni dalla scomparsa del giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto, una fiaccolata a Chiavari per chiedere che venga fatta verità. Buonasera, buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. I giornalisti della Diocesi di Chiavari hanno festeggiato questa mattina il loro patrono, San Francesco di Salle. Nella cappella maggiore del seminario Vescovile, il Vescovo ha preseduto la Santa Messa. Il termine si è svolto anche un momento formativo, incentrato sul messaggio del Pontefice per la 52esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il premio giornalistico 2018 quest'anno è andato a Ittolo Lunghi, direttore di Tele Liguria Sud, menzione speciale alla giornalista tigulina Elisa Folli. Sentiamo. C'è una verità della persona prima della verità della notizia. All'incontro con i giornalisti della Diocesi, riuniti in occasione della festa del patrono, San Francesco di Salle, è stato messo al centro il rispetto dell'altro. L'invito, formulato dal Vescovo durante la Messa, è quello a servire la verità. Un messaggio per tutti in una società dove tante persone oggi sono protagoniste dell'informazione contro il rischio delle fake, delle notizie false. Quindi se arrivano le cattive notizie, se arrivano a levitare le cattive notizie, quando si toglie forza le cattive notizie, pungono le cattive notizie, quando io sono certo che tu hai una coscienza retta e che in nome di questa coscienza retta vi proponi delle parole vere. Quest'anno il premio giornalistico è andato a Italo Lunghi, direttore dell'emittente spezzina Tele Liguria Sud. La televisione ha festeggiato di recente 40 anni di vita. Menzione speciale invece per Elisa Folli. Dopo tanti anni di TV ha avviato un nuovo percorso professionale con il portale online T-Web News, una sfida coraggiosa nata dalla passione. Il problema importante oggi non è quello di essere i primi a dare una notizia, il problema è quello di acquisire la fiducia di chi ci ascolta. Questo si può ottenere ovviamente considerando bene le notizie, ma si può anche avere soprattutto avendo un po' di misericordia rispetto alle notizie che noi trattiamo, misericordia nei confronti delle persone che compiono dei gesti non buoni, anche un po' di pietà nei confronti di chi li subiscono. Questo ci consente di tenere quell'equilibrio che ci fa conquistare fiducia. La finalità un po' per tutti noi dovrebbe sempre essere quella di verificare, andare un po' più con i piedi di piombo in modo da fornire la possibilità anche all'utente, a chi ci segue, poi di farsi un'idea ma con un'informazione corretta. Sono i nostri peccati a essere stati annegati da Dio nelle acque vive del battesimo. L'ho ricordato, questa sera Papa Francesco nell'Omelia della celebrazione nella Basilica di San Paolo, fuori le mura dei secondi vespri della solennità della conversione di San Paolo, l'Apostolo, la conclusione della 51esima settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Vedete queste immagini che ci sono state mandate dal centro televisivo vetticano. Hanno preso parte alla celebrazione i rappresentanti delle altre chiese e comunità ecclesiali presenti nella capitale. Tutti noi cristiani siamo passati attraverso le acque del battesimo e la grazia del sacramento ha distrutto i nostri nemici, il peccato e la morte. Usciti dalle acque abbiamo raggiunto la libertà dei figli, siamo emersi come popolo, come comunità di fratelli e sorelle salvati, come concittadini dei santi e familiari di Dio. Questo ha voluto sottolineare il Pontefice. Condividiamo l'esperienza fondamentale, la grazia di Dio, la sua misericordia potente nel salvarci. La riflessione di Francesca è poi andata ai cristiani perseguitati nel mondo. Quanti fratelli oggi subiscono persecuzioni per il nome di Gesù? Quando il loro sangue viene versato, anche se appartengono a confessioni diverse, diventano insieme testimoni della fede, martiri, uniti nel vincolo della grazia battesimale. Così ha detto il Pontefice. Sentiamo però un estratto del suo discorso. Può partire. Ancora insieme agli amici di altre tradizioni religiose, i cristiani affrontano ogni sfide che sviliscono la dignità umana. Fugono da situazioni di conflitto e di miseria. Sono vittime della tratta degli esseri umani e di altre schiavitù moderne. Patiscono gli stenti e la fame in un mondo sempre più ricco di mezzi e povero di amore, dove continuano ad aumentare le disuguaglianze. Ma come gli israeliti dell'essodo, i cristiani sono chiamati a custodire insieme il ricordo di quanto Dio ha compiuto in loro. Pravvivando questa memoria possiamo sostenerci gli uni gli altri e affrontare armati solo di Gesù e della dolce forza del suo Vangelo ogni sfida con coraggio e speranza. E anche in Diocesi si è conclusa la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Come ultimo momento di riflessione si è svolta ieri sera la celebrazione ecumenica nella chiesa di Santa Maria di Nazareth a Sestilevante. C'eravamo anche noi, sentiamo. Alla famiglia di Gesù si devono ispirare tutte le famiglie del mondo. È l'invito rivolto da Filippe Sorin, parroco della chiesa ortodossa romena alla celebrazione ecumenica di Sestilevante. Il suo pensiero va alla crisi della società di oggi e lancia un appello ad imitare Maria Giuseppe, a mettere in campo atteggiamenti virtuosi e rapporti stabili. Di fronte alla crisi irreversibile della famiglia dei nostri giorni, un ritorno sistematico alla vera sorgente spirituale di ogni famiglia cristiana che la famiglia di Nazareth fa molto bene per recuperare slancio, fiducia, dialogo, amore, perdono e tolleranza. Sorin ricorda le tante famiglie in difficoltà. Questo mondo violento, dice, ci fa vivere in allerta e preoccupati per i nostri cari. La mentalità laicistica, atea e antireligiosa poi ha prodotto una cultura dello sfascio familiare. Delle numerose difficoltà del giorno d'oggi è proprio l'essodo di madri o padri alla ricerca di mondi nuovi, ma allo stesso tempo dividendo famiglie e abbandonando bambini. L'invito finale di Sorin è affidarsi di Dio, affidare a Lui tutte le preoccupazioni. Dio interviene sempre, ma siamo noi che non siamo capaci di riceverlo. Dio ci vuole sempre salvare, ci vuole sempre mettere in guardia dai pericoli, proprio come ha messo in guardia Giuseppe dal pericolo che avrebbe potuto subire Lui con Maria e il bambino. A Sestri Levante, come canovaccio della serata, è stato utilizzato il materiale preparato dalle chiese dei Caraibi. La celebrazione è stata accompagnata dal coro ecumenico. Ad ogni invocazione è stata fatta cadere una catena, simbolo dei tanti muri che ogni persona oggi dovrebbe far finire in terra. Come di consueto, il giovedì torniamo ad aprire una finestra sull'Arci Diocesi di Genova. La linea va alla redazione del Cittadino per vedere gli appuntamenti più significativi dei prossimi giorni. A voi la linea. Benvenuti nella redazione del Cittadino a Genova. Tra gli appuntamenti previsti nella Diocesi di Genova nei prossimi giorni segnaliamo il pellegrinaggio giubilare della zona Centro 2 alla Cattedrale in programma sabato 27 gennaio. A recarsi in San Lorenzo saranno i fedeli di Carignano Foce, Albaro, San Martino Valle Sturla e San Fruttuoso. Alle 16 l'ingresso in Cattedrale, quindi la recita del rosario e la possibilità di confessioni. Infine la messa celebrata dal Cardinale Bagnasco. Sempre sabato 27 gennaio ha in programma anche il convegno della Federazione Operaia Cattolica Ligure sulla riforma del terzo settore. Intervengono fra gli altri Pippo Rossetti, l'assessore Francesca Fassio e il monsignor Luigi Molinari. L'appuntamento è alle 9 nella sala BB Service in via 20 settembre. Ha registrato una grande adesione di partecipanti il corso di metodologia per catechissi che si è svolto lo scorso sabato 20 gennaio alla sala Quadrivium. Il relatore era padre Maurizio Botta dell'Ufficio Catechistico della Diocesi di Roma, che ha parlato dell'uso dei social media in ambito catechistico, soffermandosi in particolare sulle insidie che questi strumenti di comunicazione possono nascondere. Venendo ai temi di carattere sociale, lo scorso venerdì 19 gennaio il Cardinale Angelo Bagnasco si è recato in regione per restituire la visita di auguri natalizi al governatore Giovanni Totti. Al centro del colloquio fra i due i temi del lavoro, della situazione politico-economica e il nodo dell'Ilva. Infine il Cardinale ha auspicato un'ampia partecipazione al voto in occasione delle prossime elezioni politiche. Infine lo scorso sabato 20 gennaio è stata inaugurata dall'Arcivescovo a Bolzanetto la seconda opera segno del Congresso Eucaristico Nazionale. Si tratta di un'altra accoglienza notturna per persone senza fissa dimora. Sentiamo di che cosa si tratta proprio dalle parole stesse del Cardinale Angelo Bagnasco. Al termine della sua intervista la linea può tornare a Chiavari. Arrivederci. Siamo qui a Bolzanetto. Abbiamo inaugurato con la celebrazione della Messa questa nuova casa qui nel Chiosso dei Frati di San Francesco. Una casa di accoglienza per persone senza dimora. Sono previsti 17 posti e 120 volontari ma ce ne vorranno ancora perché sono cose impegnative queste soprattutto dovendo durare nei mesi, negli anni come tutti noi vogliamo. È stato fatto un restauro molto dignitoso ed è quindi una sede di accoglienza che risponde al nostro desiderio che queste persone in difficoltà potessero avere non solamente un tetto e un letto ma anche innanzitutto un'aria di casa. Quest'opera è stata possibile come opera segno grazie al Congresso Eucaristico Nazionale che è stato celebrato a Genova nel 2016 e è tradizione per i Vescovi italiani lasciare un segno, un'opera segno che ricordi come dall'Eucaristia che Gesù con noi si passi all'amore fraterno. Ringraziamo la redazione del Cittadino di Genova. Torniamo in studio. Parliamo di trasporto pubblico. L'ATP, azienda di trasporto del Tiguglio, punta con decisione sull'eco-compatibilità. Nei giorni scorsi a Genova sono stati presentati sette autobus che stanno già utilizzando la doppia alimentazione. Vediamo. Svolta ecologica da parte di ATP. L'azienda di trasporto pubblico locale controllata da Città Metropolitana di Genova e in via di fusione con la gemella genovese AMT punta con decisione sui mezzi a basso impatto ambientale. Non solo dal punto di vista della organizzazione aziendale. Da qualche mese infatti alcune linee utilizzano già mezzi a doppio carburante. I cosiddetti dual fuel sono alimentati cioè a metano e a gasolio. Ma non solo. È iniziata infatti la sperimentazione su altri mezzi della doppia alimentazione metano-idrogeno progettando nel contempo l'introduzione di mezzi elettrici sulla linea Rapallo-Portofino che sarà avviata, si spera, a breve. Due o tre anni ma ci sono prospettive più immediate come appunto il metano o altre trasformazioni a cui noi siamo attenti, non dimenticando però che la priorità massima è a garantire il servizio ai cittadini con le risorse che abbiamo a disposizione. Per cui da qui l'attenzione anche a recuperare per quanto possibile il parco mezzi esistente facendolo evolvere a soluzioni ecocompatibili ed economiche dal punto di vista della gestione del servizio. La sperimentazione dei mezzi a idrogeno è stata portata avanti con buoni risultati quest'estate sulla linea Chiavari-Riva Trigoso. I bus a gasolio-metano invece sono già impiegati regolarmente sulla linea Genova-Fontana-Buona-Chiavari portando un risparmio di gasolio di quasi il 25% e l'abbattimento delle emissioni di gas e di scarico. Sette gli autobus riadattati alle nuove tecnologie che sono stati esposti al pubblico nei giorni scorsi in piazza dei Ferrari a Genova a fornire nuovi mezzi ecologici, la società ungherese Evopro. Proprio a Budapest sono ormai in circolazione i primi 20 autobus costruiti con una tecnologia modulare all'avanguardia. La nostra azienda produce bus elettrici ultraleggeri con una tecnologia modulare. La scocca è costruita in fibra di vetro, leggerissima, a moduli. Questo ci permette di realizzare con una procedura invariata bus di diverse dimensioni, assemblando vari moduli. I vantaggi dei mezzi che produciamo sono la leggerezza della struttura e la capienza degli interni. Questi bus di nuova concezione sono già utilizzati a Budapest da tempo. I primi 20 hanno già raggiunto complessivamente i 2 milioni di chilometri percorsi. Il palazzetto dello sport di San Pier di Canne a Chiavari avrà una nuova centrale termica che andrà a sostituire quella attuale irreparabilmente danneggiata. La Giunta del Comune a questo proposito ha deliberato l'acquisto di un nuovo impianto per una spesa di 42 mila euro. Nella seduta di oggi tenutasi a Palazzo Bianco è stato deciso l'acquisto e l'installazione di nuove fiorere per via martiri della liberazione del Carugio Dritto che andranno a sostituire in New Jersey posizionati per ottemperare alla normativa antiterrorismo. La spesa in questo caso è di poco superiore ai 6.100 euro. Sportello Economia. Sulla gazzetta ufficiale del 9 gennaio 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui sono definiti i criteri e le modalità per il rilascio della carta della famiglia. Ne parliamo in Sportello Economia. Sigla. Sono stati definiti i criteri e le modalità per il rilascio della carta della famiglia che prevede sconti e benefici a favore dei componenti dei nuclei familiari regolarmente residenti nel territorio italiano con almeno tre componenti minorenni e con un ISEE non superiore ai 30.000 euro. La carta che a durata biennale viene rilasciata nel formato del tesserino cartaceo consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, riduzioni tariffarie e concesse dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. I benefici possono essere attivati nell'ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizio previsti dal decreto, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali su base nazionale, dalle regioni e dalle province autonome su base regionale e dai comuni su base comunale mediante la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati ovvero riduzioni di tariffe dei servizi pubblici erogati direttamente o indirettamente. I soggetti che aderiscono al programma possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali pubblicitari attraverso l'esibizione del bollino associato al logo della carta con la dicitura amico della famiglia oppure sostenitore della famiglia. Il decreto prevede che le agevolazioni possono riguardare fra gli altri prodotti alimentari, le bevande analcoliche, prodotti per la pulizia della casa, per l'igiene personale e ancora articoli di cartoleria e di cancelleria, libri e sussidi didattici, medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari, strumenti e apparecchiature sanitari, abbigliamento e calzature. Sono previsti sconti anche per i servizi come la fornitura di acqua, energia elettrica e gas e altri combustibili per il riscaldamento, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, servizi di trasporto ricreativi e culturali, musei, spettacoli e manifestazioni sportive e ancora palestre, centri sportivi, servizi turistici, alberghi e altri servizi di alloggio, impianti turistici e del tempo libero, servizi di ristorazione e servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità, l'istruzione e la formazione professionale. I consiglieri di minoranza del comune di Sessilevante denunciano lo stato di abbandono in cui versa il parco Serlupi, dopo essere stato riaperto a seguito della bonifica, lo spazio verde giace in una condizione di trascuratezza, scrivono in una nota chiedendo una maggiore attenzione per tutta la struttura e per tutto il decoro urbano. Entreranno in vigore domani limiti massimi di velocità di 40 km orari e 50 km orari su alcuni tratti di due strade di competenza della città metropolitana di Genova, nella zona di Moneglia. Le provinciali interessate sono la 68 di Facciu e la 55 di Moneglia. I provvedimenti si sono resi necessari in seguito alla verifica dell'intero tracciato delle due strade, viste le condizioni del manto stradale non sempre ottimali e considerando che nei tratti interessati dai provvedimenti le caratteristiche delle due strade sono assimilabili a quelle di una strada realizzata con velocità di progetto pari a 40 km orari, si sono istituite queste limitazioni di velocità in attesa di realizzare gli opportuni riprestini, al fine quindi di garantire agli utenti delle strade la massima sicurezza possibile nel corso della circolazione. È nata la comunità produttore di nocciola delle valli del Tiguglio, grazie all'impegno di Slow Food, Comuni e Parco dell'Aveto. La finalità è il recupero dei numerosi noccioleti presenti sul territorio e anche il rilancio del prodotto. Un primo tassello è già stato posto con l'ottenimento del marchio Misto Chiavari, ma la commercializzazione della nocciola deve passare attraverso una promozione complessiva di tutto il territorio. Sentiamo. Il rilancio della nocciola non passa solo attraverso un marchio, la commercializzazione del prodotto. Per fronteggiare la concorrenza di regioni più competitive dal punto di vista dei prezzi occorre una marcia in più. Non possiamo confrontare il nostro prodotto coltivato in Liguria, in questo caso la nocciola potrebbe essere l'olio, potrebbe essere tante altre cose, con prodotti coltivati in altre regioni dove si usano sistemi differenti, dove il terreno lo permette o addirittura altre nazioni dove ci sono dei costi differenti anche in mano d'opera. Il produttore locale che conferisce la nocciola alla cooperativa di Borgonovo ha dei costi di raccolta che sono il triplo rispetto ad un collega piemontese. Il Misto Chiavari tuttavia ha caratteristiche uniche anche in termini di resa del prodotto. Il passaggio ulteriore da fare è di tipo culturale. Noi proviamo a venderci un pezzo del territorio, la storia dietro la nocciola. Chi vuole questo prodotto deve capire da dove viene per capire il prezzo e come viene gestita tutta la situazione. Deve comprare un pezzo del territorio, non compra solo la nocciola perché allora possiamo andare in Turchia, possiamo andare nel sud Italia, possiamo andare all'estero. Il Tigulio ha un mercato anche all'estero, come testimonia questo imprenditore statunitense in Italia per acquistare i prodotti della cooperativa. Diceva che ha conosciuto i prodotti della cooperativa perché noi ci siamo conosciuti circa 20 anni fa negli Stati Uniti, dove abbiamo lavorato insieme, ci siamo frequentati come amici, abbiamo sviluppato una relazione di conoscenza dei prodotti buoni. mister Sistet qua, lui lavora e produce vini e distillati di un certo livello che importi in tutto il mondo. Una 47enne abitante in Emilia Romagna, siamo passati alla cronaca, è stata deferita a piede libero per circonfezione di incapace. I carabinieri della compagnia di Chiavari al termine di un'accurata attività di indagine hanno accertato che nel corso di alcuni anni, in particolare dal 2013 al 2017, approfittando della propria attività di badante e abusando dello stato di invalidità di due persone anziane, la donna si era appropriata indebitamente di un'ingente somma di denaro, circa 200 mila euro. Questo pomeriggio in piazza Mazzini, a Chiavari, l'associazione Verità per Giulio Reggeni, il Tiguglio non dimentica, ha organizzato un presidio commemorativo in occasione del secondo anniversario del sequestro. Noi eravamo presenti. A due anni dalla scomparsa di Giulio Reggeni, anche il Tiguglio non ha dimenticato. L'associazione Verità per Giulio Reggeni, il Tiguglio non dimentica, ha organizzato in piazza Mazzini, a Chiavari, una fiaccolata che ha raggiunto l'auditorium dei Filippini, nel quale si è svolta la manifestazione a ricordo del giovane ricercatore trovato ucciso in Egitto due anni fa. Ha un valore simbolico, vogliamo che non cada il buio e rimangano invece le luci accese su quanto è capitato a Giulio Reggeni e quanto sia necessario fare per conoscere la verità. Ricorderemo la figura di Giulio con dei momenti musicali, abbiamo un bravo artista che suonerà Bach e alternati alla lettura di passi scelti proprio per questo evento. In particolare ci sarà l'attrice Antonella De Ligatti che appunto leggerà questi brani che ricordano Giulio e che ricordano i tanti Giulio che in questo momento sono presenti nel mondo. Il momento centrale della manifestazione è stata la proiezione di due video, non solo per ricordare Giulio ma per chiedere che venga fatta chiarezza sulla sua morte. Proietteremo due video, uno in cui la mamma e il papà di Giulio testimoniano questa vicenda insomma credo che sia anche importante ricordare una vicenda che da un punto di vista umano per questa famiglia è stata veramente una tragedia. e dopo aver ascoltato Paola e Claudio Reggeni vedremo invece il video musicale realizzato da una classe del liceo del Pino che ricorda, fatto da questi ragazzi che ricordano l'evento e che chiedono anche loro che su questa vicenda non cada l'oblio. Amonta a 4.650 euro la cifra che il Circolo della Pulce di Rapallo ha donato al comune terremotato di Montegallo delle Marche. La somma è il frutto della vendita dei biglietti natalizi. In questi giorni è arrivata anche la lettera di ringraziamento del sindaco di questo comune della provincia di Ascoli Piceno, Sergio Fabiani. La gioia di questo santo Natale ce l'avete regalata voi con la vostra sensibilità. Sentitamente vi ringrazio, come ringrazio il buon Dio di averci mandato in una così grande difficoltà le migliori persone cui potessimo incontrare e quindi affidarci. È mancato improvvisamente a Chiavari il Battistino Gavazzi, detto Titti, figura molto noto in città, titolare di due pastifici. Aveva 83 anni, lascia la moglie Rita e i figli Averalde e Francesca con le rispettive famiglie. Il fratello Arialdo, la zia Mariuccia. Quest'oggi al santuario di Sant'Antonio a Chiavari i funerali. Ai familiari la vicinanza nella preghiera da parte di tutto lo staff di Telepace. Mentre all'ospedale di Chiavari è mancato l'affetto dei suoi cari Giuseppe Greco, 93enne, appuntato dei carabinieri in congedo. Lascia la moglie Luisa Campomenosi, figli Franco, Livio e Stefano con le rispettive famiglie. I nipoti, la cognata e i parenti tutti. I funerali verranno celebrati domani, venerdì alle 9.30 nella chiesa di San Giuseppe ai piani di Ri a Chiavari. Alla famiglia Greco va l'abbraccio e il ricordo nella preghiera dello staff di Telepace. Primo presidio con raccolta firme per l'appello mai più fascisti. Da parte dei sindacati confederali e dell'Ampi Tigulio. Domani mattina dalle 9 alle 13 in piazza Matteotti sarà possibile aderire alla petizione che chiede alle istituzioni maggiore attenzione per contrastare il ritorno di movimenti o realtà che si rifanno al fascismo. La manifestazione sarà riproposta anche sabato 3 febbraio, stesso luogo, stessi orari. In occasione del giorno della memoria, venerdì 26 gennaio, la compagnia teatrale del liceo Marconi di Chiavari presenta Tu passerai per il cammino. La rappresentazione si trarà al teatro dell'Istituto Gianelli. In salita Gianelli 6 a Chiavari alle 16.30 sarà ripetuta anche alle ore 18.00. Lo spettacolo è aperto a tutta la cittadinanza. E ora andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per questo fine settimana. Appuntamenti in agenda per domani, venerdì 26 gennaio. Come ogni venerdì è aperto il Museo archeologico per la preistoria e la protostoria del Tiguglio. I locali, in via Costa Aguda 4 a Chiavari, sono visitabili dalle 9 alle 14.00. L'ingresso è gratuito. Continua la mostra senza glutine di Andrew Tosh nello spazio espositivo di via Sant'Antonio 14 a Chiavari. Le opere sono visitabili dalle 10 alle 12.00 e dalle 16 alle 19.00 fino al 28.00 gennaio. Nell'ambito dei corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo, nella sede di Villa Queirolo alle 16.00, si terrà la conferenza di Luca Perego dal titolo I modelli demografici e i regimi antagonisti. Alle 19.30 cena di solidarietà al ristorante Il Gourmet a Sestri Levante. L'iniziativa alla luce di un gesto è organizzata dall'associazione Civitas Umana. è richiesta prenotazione. Torniamo in studio a seguito del divieto di transito alle biciclette esituito dalla provincia di La Spezia nel tratto di propria competenza dalla Galleria Madonna della Guardia, posta sulla provinciale 523 del Colle di Centocroci. Anche la città metropolitana di Genova ha emanato analogo divieto nel tratto di propria competenza. Vietato dunque attraversare il traforo di Velva in sella a una bicicletta. Il divieto, che sarà valido fino a che sarà in vigore quello posto nel tratto Spezzino, è temporaneo in attesa di ripristinare la completa illuminazione della Galleria. Percorso alternativo la provinciale 40 che sala al valico di Velva, dove si trova il santuario di Nostra Signora della Guardia. Notizie di sport, la squadra della Virtus Entella Chiavari al completo ha fatto visita questo pomeriggio ai piccoli pazienti dell'Istituto Gaslini di Genova. Ad accogliere i giocatori, i dirigenti, il presidente Pietro Pongiglione e anche i direttori del nosocomio. Come ormai tradizione, i bianco celesti hanno visitato il reparto di neurochirurgia, dove il direttore Armando Cama ha potuto raccontare e illustrare i progetti realizzati in virtù dei contributi dell'Entella, danni sostenitrice di questo reparto. Sabato prossimo, 27 gennaio, prima della gara Entella-Foggia, verrà consegnata e rappresentata all'ospedale pediatrico un assegno di 38.600 euro, cifra raggiunta grazie alle donazioni raccolte in occasione dello spettacolo Musica per il Gasline, organizzato dall'Entella, aiuti ricavati dalle vendite degli almanacchi della società bianco celeste alle iniziative di Natale del settore giovanile dell'Entella. A questi si sono aggiunte la donazione dei dipendenti di Duferco Energia, le offerte raccolte da Naima Dance Academy Chiavari in occasione dello spettacolo The Four Seasons. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda il giornale di quest'oggi, prossimo appuntamento domani 12.45 TG13. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS